stasera partitone un partitone della madonna abbiamo due giocatori degli nota francesco grandis contro marco de scordilli liste interessantissime abbiamo un grandis col suo solito impero con una lista assi con dart veder son tir fell e eco e dall'altra parte abbiamo de scordilli ovviamente con la repubblica con obi wan kenobi mace windu e azokatano direi che potrei dare il colore alle navi di disco abbiamo un azokatano in giallo con sopra i seguenti upgrade r5 astromech e calibrated laser targeting abbiamo in rosso mace windu con sopra di sé sense r2 astromech delta 7b ultimo ma non ultimo obi wan kenobi in verde con al di sopra di sé r2 astromech e delta 7b dall'altra parte un dart veder tutto assettato con advanced sensor after birds un sortifer con predatore e un eco con predatore lista leggera per grandi si porta 194 punti contro i 2 199 di de scordilli quindi si porta in vantaggio di bid chat ok perfetto scusate mi metto un attimo a posto le schermate che sono un attimo incasinato stasera sarò solo solo soletto commenterò per voi la partita quindi tenete alta la chat tenete viva la chat insieme a me intanto facciamo un'analisi per chi fosse poco avvezzo all'utilizzo della repubblica o meglio dei jedi anche perché si vedono poco in questo periodo comunque in genere non sono navi giocatissime abbiamo un obi wan kenobi che dice dopo che una navamica 02 spende un focus puoi spendere una forza per ridargli quel focus r2 astromech che ci serve per ricaricare gli scudi a due cariche quando ricarichi lo scudo dopo aver mosso puoi prendere un no fire per poter poi ricaricare lo scudo mace windu il quale parte forte perché ha ben tre forze come abbiamo anche nobi quando esegui una manovra rossa l'hai eseguita del tutto puoi recuperare una forza in più abbiamo un sense il quale ci serve per guardare il deal dell'avversario molto forte e asokatano che è il ps più basso un ps3 dopo che esegui una manovra completa puoi scendere una nave a 02 e spendere una forza se lo fai quella nave fa un'azione e si stressa quindi una sorta di coordinate stressante è un r2 astromech che recupera le carte girate i danni subiti con due cariche sopra di sé noi abbiamo grandi sempre pronto con le sue navi tutte modificate intanto facciamo un po di zoom visto che ci siamo mostriamo queste navette super tabozze tutto con la livrea uguale alla maglietta degli hammer allora la maglietta nuova degli hammer raggiungerei direi che ci siamo quasi io segnalo i giocatori possono partire quando volete ok togliamo la grafica laterale e torniamo a noi intanto abbiamo sempre un vito pronto ad aspettarci tipo come si descrive lui pensionato davanti all'esse lungo alle 7.45 io più che altro me lo immaginavo più come quelle persone davanti ai negozi e all'istore della apple che si accampano per il giorno dopo per prendere l'iphone salutiamo chiara matti ma come sei da solo se il tuo uomo Federico Valenza non commenta con me perché sta giocando contro Aurelien il giocatore francese chiara se vuoi puoi unirti alla chat non è un problema poi anche se vuoi commentare con me se ti ricordi come si usa discord e se l'hai ancora puoi entrare nella chat mi tieni in compagnia tu grazie chiara meno male ci sei tu sennò qua sarebbe un disastro partiamo col time vedi da solo mi ricordo il time riesco ad essere anche coordinato partiamo con un discordille che ha un Ahsoka Tano un po' da coniglietto da farsi rincorrere in alto accanto a un Vedera, un Fell e in fondo ha un Obi-Wan Kenobi in direzione dell'avversario e un Mace Windu che guarda alto Ahsoka Ahsoka viene giù cerca Mace spende forza per fare Barrel e poi fa un bel boost va a cercare ovviamente i suoi compari d'avventura all'altra parte invece Grandis ha deciso di mettere un Sontilfell in alto all'angolo esterno un Echo centrale, centralissimo Evader tra Echo e Fell intanto i due i due Jedi si portano centrali e con un Mace Windu che guarda torna a guardare il lato avversario e Obi-Wan che si mette angolato cercando il centro dall'altra parte abbiamo Grandis che ha portato avanti il suo il suo Phantom con una do dritta Fell avanza fortissimo con una quattro dritta e poi un boost Evader si porta verso il centro con un pacato due morbido e un Barrel roll per portarsi un po' più distante da quello che è un potenziale ingaggio futuro turno finito si parte al prossimo tanto Chiara non ha più Discord ci segnala ciò giocatori di livello un giocatore un Discordilli campione del mondo col torneo a squadre giocatore di Repubblica da quando si è memoria un sacco di di coppe premi negli ultimi anni portateli da X-Wing un grande buon giocatore di Impero soprattutto di Assi della squadra degli Hammer scelgono il Rodial ci sono intanto ricordiamo che Eco è cloccato per chi fosse meno avvezzo Eco quando declocca sia col boost sia col Barrel devi utilizzare una due morbida o una due morbida al posto della due dritta ecco guarda i suoi compari decloccando ovviamente il Phantom quando declocca prende anche l'Evade gli viene regalato dal declock ok ci siamo intanto vediamo Vito dai raggiungici Vito ma stai parlando con me? si vieni Vito buonasera a tutti meno che a tutti non saluta nessuno ne frega un cazzo e perché in realtà in questa partita non non c'è un nemico no ci sono solo giocatori di livello guardate come si studiano una partita sarà abbastanza lunga tanto Chiara ti dice bravo Vito grazie Chiara ma questa questa partita secondo me sarà un un florileggio di strategia perché abbiamo assi contro assi come hai detto tu e abbiamo due giocatori di altissimo livello Desco penso che in Italia lo conoscano tutti Francesco è un po' è un po' meno conosciuto a livello internazionale ma direi che a livello italiano è uno dei è uno dei giocatori che ha partecipato a più a più tornei e ha un'esperienza abbastanza abbastanza vasta per per essere un osso duro per tutti secondo me sarà una bella partita sì sì sicuramente intanto nella chat abbiamo Chiara che sta scrivendo l'impossibile vedo vedo e oltretutto dice il triangolo no ha 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 cheat perché siamo noi tre e sì il problema di queste partite qua se vogliamo definirlo tale è che prima che entrino veramente nel vivo utilizzando due liste assi ci vuole un attimo prima che caraburri la partita perché devo un attimo definire e capire dove deve essere fatto l'ingaggio dove sarà la zona di ingaggio effettiva e chi riuscirà a prendere in contropiede chi prendere in contropiede chi secondo me in questa partita è abbastanza dura perché sono come come tutti i giocatori di di assi faranno le le mosse al centimetro staranno sempre fuori arco quindi è probabile che per che per la prima mezz'ora vedremo solo movimenti astratti sul mat l'unico l'unico motivo per cui mi immagino un attacco più immediato è perché uno dei due magari fa un errore e l'altro cerca di di approfittarne però è abbastanza visto il livello dei dei due piloti è abbastanza dura e quanto durerà la partita stasera chiede chiara durerà 75 minuti ma saranno 75 minuti lunghissimi più iva direi perché è probabile che andiamo anche a supplementare può anche può anche essere può anche essere è vero tra l'altro Marco usa se non ricordo male esattamente la stessa lista che aveva nei due nelle due giornate finali dell'XTC mentre Francesco ha la classica lista degli assi imperiali quindi riposizionamento target lock e dadi roventi un sacco di mod passivi quindi da un lato abbiamo abbiamo la potenza di fuoco degli imperiali dall'altro abbiamo delle navi che magari sparano un po' meno ma che hanno la possibilità di reccare gli scudi o di sfruttare un po' di un po' di sinergie tra di loro sì hanno un po' di situazioni così intanto mi chiedono dalla chat loss versus fortunati sapete nulla no dovrebbero giocare stasera in teoria non ho ancora nessun risultato fatto salutiamo xymatic intanto brunero intanto chiara dice che ultimamente non duravano tantissimo le partite ci sta la prima si è fatto un 200 0 proprio scarichissimo ci sono stati ci sono stati un paio di 200 a 0 e ci sono state anche partite diciamo non da 200 a 0 ma avviate già dall'inizio a un a un certo risultato questa secondo me non sarà né un 200 a 0 e il risultato probabilmente sarà in bilico fino all'ultimo turno Alessandro Brunero tra l'altro mi sembra abbia vinto la sua partita ieri o l'altro ieri complimenti Alessandro intanto Sebon dice con questi due senza limite di tempo potrebbero durare settimane tipo le partite di scacchi degli anni 70 che venivano interrotte alla sera per poi riprendere al mattino dopo o quelle di tennis bravo quelle di tennis quando quando avevi il il quinto il settimo gioco il settimo game che siamo davanti punto a punto ecco vedi che entrambe le liste se ci fai caso siamo al terzo movimento sono una da un da un lato del mat e l'altra nel lato opposto proprio perché per le caratteristiche un po' delle liste e un po' mi viene da dire anche dei dei giocatori lo stile degli assi è proprio proprio questo si giocano a zolle come nel calcio di altri tempi si si sono allora i tre imperiali stanno curando a uomo il il sasso il masso lì mentre la nube ha forma a forma di brioche di cornetto è circondata da assi repubblicani mi piace perché io ci vedo tipo una fenice tu ci vedo un cornetto ognuno ha proprio una visione diversa del mondo una fenice ah vabbè si vedi queste ali aperte questo testo verso il basso tu ci vedi un cornetto sei più italiano tu dimmi sicuramente sì probabilmente sono anche più grasso perché ci vedo ci vedo solamente pappatoria mentre tu hai avuto questa intuizione quasi poetica della fenice che rinasce dalle proprie ceneri momento di indecisione per fell se fare un bar o meno se ci sta per l'esattezza credo sia la sua idea ok una cosa la Nikolic versus Arzovic che dovrebbe essere quella partita che è durata più di 16 ore se non ricordo male è quella che stiamo annunciando sono assolutamente ignorante in tema scacchistico quindi probabilmente sì è la citazione della della partita infinita che è rimasta nella nella storia intanto sappiamo che Desco passerà sopra Sass al momento più inaspettato dimostrando i suoi attributi vero l'ha fatto un po' di volte è vero succede l'ha fatto anche nella partita dell'XTC contro la Polonia è passato due volte una volta per diciamo per sbaglio perché l'avversario ha fatto un bump e cioè ha sbagliato la mossa e lui ci ha bumpato contro sul masso e la seconda volta invece volutamente per poi posizionarsi meglio però la partita me la ricordo benissimo perché è finita 99 a 98 e al cardiopalma sì sì cardiopalma e mutande sgommate a go go comunque mi manca i momenti dell'XTC in cui andavamo a commentare a esultare per i nostri giocatori è stato un bel periodo per quanto abbia vissuto un periodo orribile perché non avevo tempo di vivere e commentavo sempre devo essere sincero ho un bellissimo ricordo ma io non mi vergogno a dirlo ma alcune quasi tutte le partite che avete avevate streamato alcune me le sono viste due o tre volte proprio proprio perché perché sono partite belle quelle di soprattutto quelle di Bennati mi sono rivisto quella di di Lossa anche quella con la con la Norvegia in cui ha perso all'ultimo ingaggio perché ha scelto di andare a sparare ci sono un sacco di partite veramente belle però vedi tu le hai guardate tante ti sei messo di guardarle e sei migliorato tantissimo perché ho visto poi all'Europa Cup si è comporto bene ho imparato un sacco guardando guardando quelle partite magari da un lato perché ho scelto poi di giocare la stessa lista del Benna e quindi guardando come gioca lui anche se sei un senza mani come me qualcosa la impari ma anche guardando le liste le altre liste comunque impari a capire come si muovono quale logiche hanno dietro quindi è stato secondo me è stato utile ma si ma alla fine è quello su cui volevo voglio aver già il discorso nel senso che è importante queste situazioni qua con mostriamo le partite facciamo cose potete commentarle con noi vi dicendo è utile anche rivederle perché si impara uno come si vuol giocare una lista se ci interessa giocarla e due come possiamo approcciare certi tipi di lista poi ogni giocatore come voi potete notare guardando le partite sia nostre che in altri canali vi dicendo ha un suo modo personale di vivere un certo tipo di lista però mediamente ha grossolanamente ogni lista ha un suo metodo più o meno per essere giocata e arrivare al risultato vorrei puntualizzare perché poi è tutto relativo nella vita ma io ho un c'è un proverbio tedesco che dice che vuol dire diventi un maestro tramite l'esercizio quindi facendo cento volte la stessa cosa alla fine la farai perfettamente e questo secondo me vale anche per qualunque gioco penso per qualunque attività ma anche per le navette di plastica che fanno più più un'ora alla fine intanto qua sulla chat ci dice erano 20 ore di scacchi la fine dopo riabbasso il limite di mosse per lo stallo del fiere torre sì perché in pratica erano andati in stallo con due pezzi che non riuscivano più a uscire da quella serie di movimenti beh ma adesso c'è una modalità del gioco degli scacchi che si che si chiama speed chess se non ricordo male in cui mi sembra che tu abbia un tot di minuti che puoi usare sul timer perché ogni giocatore deve deve fermare il tempo che gli viene assegnato per fare diciamo per pensare alla mossa e farla quindi adesso c'è una modalità di gioco che prevede tot minuti ma ma sono pochi e sono veramente pochi adesso faccio il retico un po' come mostra una regina di scacchi la serie tv esatto che io non ho visto però sì quella modalità lì e infatti vedi questi scienziati che si mettono lì e cominciano a spostare pedine a velocità folle a velocità folle ma ma con una logica chiaramente che per un comune mortale beh possiamo proporre a MG lo speedy swing no ti prego no ti prego no a MG c'ha già tantissime idee che gli vengono senza aiuto non diamo gli altri spunti di riflessione anche se le foto di loro che lavorano dicono che gli aiuti vengono fuori da altre cose cito i vari meme che mettiamo su x-wing italia e attenzione che vedo un imperiale che timida forse stanno rompendo gli indugi si stanno un po' stanno perdendo un po' di timidezza vedi che ci sono i primi movimenti verso le navi avversarie sempre larghi guarda Vito visto che sei in distanza di 15-30 secondi ti metto su discord la partita così la vedi in simultanea ah ok si visto che dovresti avere 15 secondi di distanza all'incirca si 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 ok si si la vedo così almeno ti è più comodo non vedi la chat però intanto Brunero faccio salto da discord a youtube intanto Brunero ci dice che quando dovete giocare contro discordilli l'os gli ha detto non contare sui sassi tanto lui ci passa sopra e non prende danno mettetela via fortunati ha risposto tesa tesa posso immaginare la partita quindi abbiamo fortunati che sta giocando nell'altro tavolo il tavolo 5 ok Brunero dice che questa modalità di speed lo fanno già su un gioco da tavolo che si chiama king of war è un warhammer fantasy wow qua abbiamo un un possibile ingaggio si porta in barrio lontano il nostro il verde oddio non mi ricordo Obi-Wan Kenobi perché è un possibile ingaggio da parte di Eco che zitto zitto 4-4 tra un sparisco riappaio fa cose si qui c'è qui c'è da notare che mentre Francesco ha allargato i suoi tre pezzi invece Marco li ha concentrati forse vuole forse vuole andare su su una su una nave singola provare a focalizzare il fuoco anche perché ricordiamo che sia Obi-Wan Kenobi che Mace Windu hanno delta 7 quindi sparano un po' più forte difendono un po' meno e non lo scudi in più però Ahsoka ha il calibrated quindi deve essere nel bullseye l'avversario per aggiungere il bonus dell'occhio si quindi sparano 3 Ahsoka spara 2 si a meno che appunto non abbia non abbia l'avversario nel bullseye mamma mia quanto è sexy quando fa queste cose tanto freccette freccette come dire guarda come sono bravo mi sa che deve tirare un dado però in teoria non lo segnala la chat in teoria forse si zoomando si vede si vedrebbe ma il programma non dice nulla vediamo un po' in chat ma il suindu target fa 5 tritta ma non segna il il segnalo per là sulla nube non segnandolo in teoria il programma farà vediamo loro due col free play che cosa dicono cosa si dicono fra di loro ma ma quando c'è quando ho fatto il movimento la nube si è ha ha flashato ok non ho notato però il sul sulla sul riepilogo delle mosse non c'è non viene segnalato mi stanno cercando di gestire solo tra di loro perché se non se non viene overlappato cambia tutta la partita perché lui può fare variazioni come un barrel boost è certo può può se se c'è passato sopra non fa azione e potrebbe essere strainato quindi difenderebbe con un con un dado in meno e mamma non vuole aggiungerai e mamma non vuole ma neanche francesco vuole immagino inteso mamma francesco ok dopo papà castoro mamma francesco non ha un problema ma probabilmente neanche mamma wong vuole mamma wong cosa tiriamo fuori ragazzi andate a cercarvi la prima partita commentata dell'xtc e scoprirete chi sono i wong i mitici fratelli wong che nessuno ha mai scordato chiara chissà se l'ha lappato sicuramente l'hai strammato brava chiara sono i termini giusti no ma non non lappato overlap vuol dire che c'è passato sopra lappato vuol dire leccato quindi credo che desco gli abbia dato la possibilità di poter fare azione perché stava guardando se fare il barrel così sembra abbiamo un altro ospite in in cabina commenti abbiamo un altro ospite in cabina commenti vedo vince 90 buon salve niente sta osservando un osservatore ah ok rimane rimane silente un po' timido un po' timido va bene lo stesso un attimo gli utenti modifiche ok perfetto ok se ne va se n'è andato si 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 vede che era curioso era curioso e ha sbagliato a premere il pulsante invece fa evade barrel si mi sa che non vuole non vuole prendere troppo poco si si beh ass si ma fino alla fine si 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 quindi arc dodging come non ci fosse un domani e cominciamo con i fuochi dai chi è vader si vader che deve scegliere se sparare su obi wan mace se non se non vedo male rosso e mace window e gli fa anche perché ha preso il target ha tolto tutto il target sopra e rerolla i due blank fa tre occhi ha preso occhio grazie a l'azione che ha concatenato grazie alla forza adesco deve decidere se spendere l'occhio per evitare tutti i colpi o subire comunque il danno adesco dice guarda io invece che l'occhio spendo la forza cazzi tuoi e rimane con una forza sopra adesso segniamo anche le forze che sarebbe carino rimane con una forza guardate come spiega vito in chat come riesce a fare più cose cioè è un uomo che non ce ne sono riesce a avere multitasking critico da parte di obi wan no di mace window su fell il quale usa le maid il quale devi usare le maid cavolo che un tiro di difesa molto scarico da parte di francesco ho visto di peggio ma ho visto anche di meglio sì sicuramente ambe due le cose direi che non c'è fuoco su veder no e si riparte fuoco primo fuoco un po' timido hanno si sono misurati un attimo l'un con l'altro hanno preso le loro misure hanno fatto come i cani che si incontrano la prima volta si guardano un po' si girano attorno una sniffatina al sedere per capire chi sei e dal prossimo dal prossimo turno cominceranno a mordersi anche perché qua abbiamo varie scelte desco è abbastanza ampio come spazio intorno a sé quindi ha un pool di movimenti più possibile e può gestire un attimo meglio la partita grandis ha un fello un po' incastrato quindi è un po' ridotto e limitato sulle potenziali manovre che lui può fare anche se non è stressato quindi è un po' più libero ah no è stressato ha fatto doppiazione mi sembrava quindi ricordiamo per chi fosse un avvezzo mostriamo il deal del time interceptor il quale si destressa con le due secche morbide dritte e si ha la 3 e la 4 dritta 3-4 dritta non credo sia utile per grandis a meno che non voglia giocare che non aveva in meno e mostrare di avere un pene grossissimo ma non mi sembra la serata salutiamo Pucci se Pucci vuole unirsi alla chat al commento può farlo se vuole unirti con noi a commentare Pucci sei ben accetto buonasera Alessandro deal messo per Echo anche perché deciderà se cloccare o decloccare penso decloccherà e farà cose secondo me clocca per liberarsi un po' da quel masso un po' troppo vicino ricordiamo che Echo può fare solo le due morbide non può fare le dritte quando declocca sia in boost la forza di questa nave sai che vedo vedo un po' male su un Tirfell perché lì lì deve o sceglie di cioè prova ad andare lungo però lungo vuol dire una tre una tre bank però rimane stressato rimane Ale suo è quello deve di stressarsi per forza ma per uscire dal per uscire dal fuoco per cercare di uscire dal fuoco perché non penso che che le che i delta si girino verso verso quel lato perché sennò sarebbero troppo esposti a a Vader e a e a Echo quindi per destressarsi dovrebbe fare una uno due solo le due alle due morbide secche e dritte anche secca quindi in teoria se fa se fa la secca si destressa ma rischia di rimanere nel fuoco di almeno una nave può fare la calattina con una due morbida boost e vedere cosa fare infatti si in che ordine muovono su un tir muove per ultimo quindi può grande Chiara che scrive declocca sicuro con che sicumera lo afferma cavolo ricordo in una delle prime delle prime teleconiche in cui usava termini assolutamente astrusi e adesso ci butta lì un declocca sicuro con un'alterigia che solo la regina Elisabetta può mostrare intanto qui mi sembra che ci mettano abbastanza ma perché probabilmente è un è un passaggio fondamentale della partita qui vanno ad ingaggiare sicuramente è questo momento importante perché può definire realmente le sorti della partita nel senso che imposterà i prossimi turni sia per un discorso nel quale può venire fuoco su certe navi e perdere metanave o perdere totalmente una nave sia per il fatto che a come si incastreranno definirà molto i prossimi due o tre turni per disincastrarsi e evitare fuochi o farne meglio tanto Chiara dice la prossima volta commento io raga mi sento più colta brava brava Chiara ci manca la quota rosa nel commento intanto voglio vedere un attimo se io quando c'è Chiara a commentare o comunque a partecipare alla chat non non sono contento finché non arriva il momento Bratta It's Bratta Time e quello è il momento in cui uno dei due giocatori è chiaramente infilato in un bidone di guano di quelli grossi aggiungerei di quelli grossi quindi c'è la svolta la partita diciamo evolve ma vabbè io Chiara la conosco molto bene però io me la immagino stile Adventure Time invece che Adventure Time It's Bratta Time con in mano un microfono e fa un mic drop ci vuole qualcuno di professionale con te Chiara non esiste nessuno di professionale a commentare le partite cioè nel nostro entourage senza nulla togliere ai non presenti allora io seguo seguo anche Bull Squadron Podcast e altri e altri diciamo gruppi di 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 fans barra pro streamer che fanno delle diciamo delle croniche più ingessate quindi molto molto più con commenti tecnici sì 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 però alla fine nei nei momenti in cui i giocatori stanno settando i dial una volta che hai fatto un paio di hai azzardato qualche previsione su che cosa faranno gli altri dieci minuti di che cosa parli sì sì e poi comunque c'è ora è un gioco esatto partirei questo presupposto di base quindi che cazzo me lo mangio e me lo rompo penso che l'idea è quella sì adesso bisogna capire che cosa fa vader perché se vader ha fatto una manovra corta e gli si mette in coda ah c'è proprio una killbox sì 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 adesso bampa quindi non può fare azione probabilmente e ha il fuoco di due navi addosso vader si ha fatto una 1 morbida ha fatto giusto vader si ha fatto una 1 morbida a sinistra si mette dietro a zoka e e sono saranno palate il problema reale è che a zoka anche se venisse rotta con 4 vite varrebbe 49 punti invece fenne vale 55 no sì sì beh se se riesce a togliere fel dal dal matt è un bel colpo eh beh sai comunque non diciamo nulla intanto chi la dice solo come jigglypuff dei pokemon rosa con il microfono io sono sono di un'altra generazione quindi jigglypuff dei pokemon non ho non ho presente chi chi sia ma fatti una cultura per favore dai lo so ma io sono più uno da cicciolina e l'uomo nero cioè ho degli altri riferimenti culturali rispetto a voi a voi giorni tre morbidi aggressivissimo veder attenzione veder va lì gli dice vi siete girati mostrate le terga e adesso vi faccio vedere io salve posso appoggiarglielo tra l'altro può può scegliere anche su chi sparare su un tirfell sparerà per primo quindi in realtà anche Francesco può fare può focalizzare il fuoco su una sola nave obbio un bel bersaglio vedi eh sì sì anche perché se gli va bene a Grandis Fell lo ha nel bullseye e con una 2 probabilmente con una 2 stretta probabilmente sì perché sa che Bampa però finisce dritto contro contro Mace Windu quindi dovrebbe dovrebbe essere dovrebbero essere diciamo più o meno fronteggiarsi più o meno esattamente di nel bullseye e bullseye vuol dire avere un predatore e un occhio grazie all'abilità di ferro sì focus più più predator esatto che non è male nella vita il focus per difesa per autore per l'attacco ora discutiamo tanto segnalano hanno problemi con con il TTS ha messo un critico su Obi che dovrebbe essere realmente il target dato gli da Vader tanto fell è nel bullseye quindi prende occhio per la sua abilità si restressa perché ha fatto una secca quindi una 2 secca quindi una blu e nel contempo avrà il predatore da utilizzare quindi ritirerà un dado in fase d'attacco forse anche PS1 sono sbagliosi gli riga anche la macchina secondo me Obi-Wan qua c'è il rischio che ci sia che ci sia una piaskille probabil tira fell mamma mia e spende occhio grande 4 dentro disco difende 2 e fa un evade e un blank quindi prende 3 pizze dentro Obi-Wan sbezzando se regalando 38 punti a Grandis parte Vader 3 dadi perché siamo a distanza 2 e ha un target lock spende il target per il reroll trasforma il colpito in critico grazie all'abilità della nave perché ha il target lock sulla nave rerolla per il target fa occhio spende occhio 2 colpiti e un critico disco tira e 1 evade e un blank quindi subirà un colpito e un critico rimane a un punto vita gira il critico e il critico Fuellic non è per fortuna per desco non è debilitante rimaniamo con Obi-Wan che nobi ha un punto vita Roby dice bello ma adesso tocca a me 6 a PS1 non è nulla mo te sparo 2 colpiti e un critico su Fel attenzione Renault 3 colpiti e un critico su Fel che mani che mani è caldissimo stasera ragazzi pizze che neanche cracco roll di Fel in difesa con ciao Fel a sto piacere alla prossima un classico del del gioco di Fel ti sparano saluti salutava sempre ecco qui qui se 55 punti descordilli 38 punti grandis tocca a eco che può forse vedere Obi-Wan che nobi distanza 3 con occhio su di sé roll ragazzi che calor che calor che mani stasera che mani desco poteva farcela ma purtroppo è venuto un blank quindi di conseguenza Obi-Wan che nobi ci saluta un pezzo per un pezzo sì eco e solidale ma grandis fa 75 punti contro i 55 di descordilli sì eco solidale eco solidale la problematica di base per descordilli è che tutte le sue navi guardano i piccioni che passano e grandis gli è dietro che ingaggio signori che ingaggio sì hanno sparato veramente forte mamma mia hanno sfruttato alla grandissima i mod salutiamo Paolo scusami vai vai no no vai tu vai tranquillo ciao Paolo pel sempre nel cuore sempre nel cuore ma è andato negli spogliatori prima della fine della partita il suo l'ha fatto ha tolto tre scudi a Obi-Wan Kenobi il suo l'ha ampiamente fatto sicuramente un sacrificio più che giusto e più che accettato dal signor Grandis 35 minuti alla fine tra l'altro adesso bisogna capire che cosa farà Marco perché Marco potrebbe anche sparigliare le carte e mandare un asso Mace da una parte e Asoka dall'altro però perché se va con entrambe le navi verso l'angolo in alto a destra oddio l'angolo in alto a destra è la mia è la mia è la mia prospettiva cioè se va sì no no ok angolo alto a destra rischia di di venire di venire chiuso dalle due navi dalle due navi di Francesco anche se Eco è abbastanza indietro dovrebbe fare qualcosa di una Eco non ricordo sia la 5 ma la 4 sicuramente allora intanto io direi che possiamo mostrare due deal nel senso che mostreremo il deal dei dei Delta 7 che dicono De Stress visto che c'è una socca stressata De Stress con le 1 e 2 morbide e la 2 e 3 dritta quindi nel caso volessi De Stress a queste 1 2 3 4 6 opzioni possibili invece la domanda da che parte andresti da che parte andrei non giocherei i Jedi semplicissimo dall'altra parte Eco come mi hai chiesto che dritta ha una 4 dritta al massimo ok quindi mi ricordavo ecco la conosco abbastanza bene perché la gioca Davide Bruno con cui ci troviamo un paio di volte a settimana per allenarci e quindi mi ricordo abbastanza chiaramente il dial e io qui se fossi Marco avrei chiaramente io non sono Marco quindi Marco farà la cosa giusta io avrei qualche dubbio su dove andare con Ahsoka cioè se mandarla alla sua destra in modo che De Stress e magari Busta e si tira fuori dagli archi e invece con Mace cercherei di fare la curva attorno alla nube e tenermi quanto più largo possibile oppure puoi fare una cosa che non si aspetta a nessuno nel senso che con Mace fai una torna indietro in qualche modo e ti carichi la forza e con Ahsoka fai una a destra morbida e scendi e cerchi di far sì che vederti ti sorpassi esagero sì sì no beh ma azzardatissima questa azzardatissima il fatto è che il fatto è che c'hai Eco che muove dopo sì quello sì e quindi se non è andata lunga ma ha fatto una due ti può scegliere di mettertisi a fianco di di spostarsi è una è un altro bel turno questo molto molto ragionato ok vuole vedere l'ideal di vedere quindi spende la forza e vedere fa una dritta quindi l'idea di far bampare con cioè di 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 farsi superare da vedere con Ahsoka non è non è fruibile vabbè che Eco facesse quel movimento lì si mettesse bene era abbastanza faxato vedi si ha fatto ha fatto però può fare un bar per dare fastidio a veder potrebbe fare un bar per dare fastidio a veder la problematica è che avrebbe Eco veramente su gruppone si beh ma il bar lo deve lo deve fare per forza perché se no veder le si le si attacca le terga e e non bampa neanche cioè deve per attenzione spende forza per fare bar far fare barrel a maice ok e poi spende anche se forza post movimento per fare l'azione di bar prende un occhio per tutelarsi vedi coia c'è coia scusatemi fa la segnor se non ricordo male si segnor loop con maice toli un altro termine faxato dice chiara e farò uno morbida con eco ben misurata bella mi è piaciuta abbiamo abbiamo usato il termine faxato sì l'ho usato io ah ok penso che non ci siano più fax sia un po' desueto come termine diciamo però si denota che vengo dagli anni ottanta io esatto ecco 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 si mette esattamente nel punto cieco perché sconveder fa il bar ah no veder ah no è vero all'advanced sensor che sexy questo veder questa questa mossa qui mamma mia ragazzi è veramente pensata bene cavolo maledetto sexy veder come direbbe Homer Simpson adesso un plauso mamma mia bello si becca sette sette dadi di attacco non ha il target ma lui fa vediamo cosa dice la chat che non la vediamo crit crit due crit mi dà la chat sì e Ahsoka dice bello bravissimo però diciamo che un po' posso evadere nella vita evasione fiscale di Ahsoka ecco tira quattro pizze per l'esattezza ecco sì ecco va con quattro e c'è anche il mod è bello ha un occhio che può spendere quindi fa due colpiti un critico ricordiamo che Ahsoka ha solo uno scudo perché non ha delta 7 fa due evade perde lo scudo ancora un danno e Ahsoka viene smezzata Ahsoka non vede nessuno quindi questo turno di fuoco per desco è pari a zero Grandis non ha sfruttato al meglio grazie ai tiri di Ahsoka in difesa però comunque gli ha tolto un bello scudo il quale può portare a smezzare la nave con un solo danno quindi comunque il vantaggio sta pian piano aumentando per Grandis in questo turno ricordiamo sempre che per destressare i delta a 7 devono fare una due dritta o una tre dritta o la 1 e 2 morbida quindi in buon Mace per portarsi in avanti potendo fare azione deve fare forza una due o tre dritta o una 1 e 2 morbida qui qui Francesco potrebbe potrebbe anche decidere di di spostarsi in faccia a Mace con con entrambe le navi e e sottoporlo a doppio fuoco però questo è un po' rischioso in effetti anche perché ha doppio riposizionamento esatto può fare anche un boost on barrel quindi può cambiare un po' le sorti dello spazio poi deve anche leggere molto bene perché muove prima quindi è molto esatto però beh Ahsoka Ahsoka non è stressata no 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 quindi potrebbe fare una koyo o una segnor sì sì una segnor comunque sì sì una una manovra che ti fa che ti fa girare di di 180 gradi anche perché scusate mi devo leggere un attimo il testo di Ahsoka eh may perform action anche se è stressata quindi volendo può fare una una segnor o una koyo e poi spendere la forza fra comunque azione grazie alla sua abilità di nave sì bisogna anche capire cioè bisogna capire bisogna anche considerare il fatto che Francesco potrebbe usare il declock per far vampare Ahsoka quindi un sacco di possibilità bella sta partita mi piace di essere sincero pensavo fosse molto più lenta una partita invece i giocatori si sono no hanno fatto si sono sono andati all'ingaggio al terzo movimento se non ricordo male che per essere degli assi al 40esimo minuto cioè al 40 minuti dalla fine sono andati l'ingaggio 42 minuti quindi hanno fatto una mezz'oretta di movimento ma più che bene abbiamo visto partire di Scordilli anni addietro in cui fino all'ultimo turno non c'era ingaggio quando incomincia a giocare i Jedi giocava così le ho le ho viste ce n'è anche una nel mondiale negli negli Stati Uniti in cui ha ha cato ha ingaggiato negli ultimi dieci minuti forse era un suo un suo cavolo di battaglia quell'approccio cioè devi avere una freddezza nel sangue che neanche un rettile sì sì e ma penso che sia la cioè per giocare assi comunque devi avere una una visione che va oltre la terza o quarta manovra cioè devi già avere in mente che in quel momento arriverai in quel in quel posto dove come quando e perché esatto esatto roba che io dici dove andare dopo che ho settato il dial mi pare è un approccio come un altro ognuno suo ma infatti io non vedo l'ora veramente che mettano la regola del del road quindi infatti è una la mia è una è una mara battuta per cui setti i dial senza sapere chi muove prima bello e farai delle robe che neanche all'asilo nido attenzione bello attenzione bel declock si mette in una bella posizione sia per mace sia per ahsoka ahsoka torna indietro con una koyo perché ciò che pio pio è ciò che koyo koyo ricordiamo no una segnor scusatemi una segnor si si segnor non non può non può fare azione perché non ha forze attive no ha speso la forza ah la già ne aveva appena spesa e che cosa e che cosa ha fatto non lo so dire adesso sto dicendo credo no niente scusate ho preso solo lo stress e basta vediamo cosa appare anche perché se vedra va dritto nel bullseye di ahsoka la quale se rimane vivo ovviamente ha la possibilità di aggiungere un dado occhiato nella sua fase di combat sì però dovrebbe fra forza fare un occhio per farne uso perché non ha più forze su di sé nel contempo ricordiamo che ahsoka ha anche r5 però non è molto utile fa un boost per rompere le palle come si suol dire ai agli imperiali ehm ma fa una tre dritta se non l'ho visto male dritto per dritto destress fa molto lungo forse un po' troppo mi permetto di dire beh un barrel volendo lo mettesse un po' meglio vediamo perché se vedra ha fatto una 1 morbida a salire c'è da ridere una 1 morbida a sinistra dici? sì ecco barrel fa una mini killbox sperando che ci che ci capi di dentro travedere eco qua lanciamo forze sul campo ok spende la forza per fare il barrel prende target lock di azione su eco eco mostra il dia eco ragazzi che 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 cos'è donna eco o è uomo vabbè no eco penso sia un uomo che uomo eco ragazzi è un uomo morto no vabbè non così no diciamo che 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 in questa fase in questo in questo turno è possibile che un'altra nave guardalo con questo barrel che sexy adesso vediamo che cosa che cosa fa vader vader fa un target lock in grazie ad advanced sensor non sapeva nella ragione scrivere poi fa uno morbido come 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 pronosticato bampa e lo guarda bene mamma mia ragazzi ricordiamo che il tocchino quello quello scudo è il target lock di vader perché hanno problemi con con il programma distanza due per vader quindi tira tre dadi spende il target ovviamente potendo rirollare due dadi che sono i due blank sono venuti fuori spendere le due forze direi proprio di sì secondo me sì tanto anche perché comunque ha due modifiche anche lui potenziali le cose le fai bene o non le fai grandi sì vogliamo sangue solo uno hai timido vediamo fa il timido se scegli la violenza fa il timido eh sì fa il timido gli fa un danno nel suo essere timido poteva fargliene due poteva fargliene due sì il il problema con la violenza è che se la usi e non funziona probabilmente dovevi usarne di più sì mi piace me la la voglio con l'epitaffio ma ce ne ho ce ne ho diverse sulla violenza e la violenza non è mai ha fatto bene ha fatto bene perché spende le due forze ed evade due grandi sa stasera grandi sa ha avuto ragione lui distanza uno quattro dadi per eco su mace window uno timidissimo eco eh sì e spendere la forza ovviamente si porta a zero forze ma intanto grandis un scudo alla volta si porta a far danni tocca a zoka che ci propone due dadi di attacco distanza 2 più un occhio grazie al bullseye ma non potendola modificare perché non ha forze è utile quanto un buco del culo su un gomito e intanto un danno lo prende direi sì però non clocka se spendere le evade direi che il clock fosse più utile sì sì probabilmente sì sì lo prende con quello che costa lo scudo al giorno d'oggi ricordiamo che siamo a 18 minuti alla fine potrebbe essere dai 2 ai 3 turni spendere lo spende mi stupisce con effetti speciali mi direi può fare una 1 secca ce l'ho uno secca destra ci sta ho 18 minuti al termine quindi scappare già adesso forse non gliela fa no magari decideva di disingaggiare ma è ancora troppo presto forse non lo so sai tanto vabbè vede scusami ancora una forza fruibile Azogra ne ha una e Mace ne ha una quest'uso del deviate non lo so io non l'avrei usato perché lo rende troppo 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 calcolabile anche perché io ho detto la 1 secca ma c'è Mace muove dopo quindi bamperebbe a meno che non va a sinistra ma farebbe molto per la nube tanto visto che ci siamo facciamo un po' di fante x-wing zoomiamo un attimo non lo so forse ci sta anche ma può anche guarda può anche può anche fare una scelta estrema e fare una coio vabbè quello anche sì perché no intanto rimostriamo il dial di eco non si sa mai nella vita che ci venga l'ispirazione ma sinceramente a me non viene ha una 4 coio una 3 coio tutte le secche della 1 alla 3 ha tutte le marabelle della 1 alla 3 e ha le dritte della 2 alla 4 e anche di Vedra comunque con una forzina comunque il buon advanced sensor su Vedra non è brutto eh sì sì quando vai a combattere nel corpo a corpo probabilmente ti ti permette di avere più scelta perché nella pizchia paga sì ha dimostrato ben due volte che è utile sì ricordiamo che Vedra deve ancora spendere after birth volendo eh ma secondo me se lo se lo tiene per per gli ultimi turni nel caso debba 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 disingaggiare è per questo che ti che ti dicevo adesso mancano 16 minuti ancora troppo presto in più azocca ancora l'R5 astromech in questo caso non sai perché non ha ancora carte su di sé e macewind ha pur sempre l'R2 astromech da utilizzare sì quindi questi 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 di scudi e carte no no ma infatti non ha non non avrebbe non avrebbe senso non avrebbe senso farla 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 fuga adesso perché gli perché gli permetti di rientrare come punti eh perché allora vantaggio comunque di grandis che è 65 punti 55 dei scordilli azocca in sé non può recuperare lo scudo quindi sta così com'è basterebbe un danno per smizzarle portare a casa altri 25 punti e macewind può recuperare lo scudo ma non cambierebbe quasi nulla tanto landini si palese e dice grazie l'idea del sensor è forte quindi direi che c'è lo zampino di di landini nella scelta del dell'advanced sensor oltretutto landini hai giocato ha giocato ieri e ha perso di 13 punti maia peccato tanto ricordiamo che landini e grandi sono campioni dei vecchi tornei organizzati da noi dei dei giochi corsari dei zena direi che la che la scuola la scuola fiorentina una bella scuola ha sempre ha sempre proposto piloti di 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 alto livello ok quindi è successo che si è appare stato una 1 secca ah no è vero ho detto una bellinata ho detto che maismove dopo ma maismove prima perché ps4 non è ps5 quindi la 1 secca era giusta da parte di eco il problema che è incassato lì l'andini gioca cannoni a tappi laser ci racconta fa fa le veid tocca a veder che fa target mi mostra sempre che fa il target ma usa un altro token per le mie logistici sempre grazie ad advanced sensor fa un accoglio da 4 e dice mo te sparo quello che costa il giorno d'oggi mo te sparo non so se non so se eco riesce a vedere mace direi di si tanto l'occhio è dato a mace da ahsoka e attenzione perché che cartella sono due crit e secondo me la forza va sì secondo me sì roll roll di nuovo grandis è destino devi scegliere se usarlo o meno no se ne sta no stack out un crit passa un crit passa perde uno scudo mace 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 è uno dall'essere smezzato sì ricordiamo che può recuperare lo scudo grazie a r2 sì 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 certo due dentro su eco che per uno niente è sempre due rirolla per target lock tre dentro eco difende due fa solo un evade spende l'altro evade perde uno scudo questo turno finisce con uno scudo perso per eco uno scudo perso per mace ah no scusatemi c'è ancora eco che può rispondere chi lo venia ha fatto i conti senza l'oste tre dadi su mace due critici a grandis piacciono i critici stasera stasera piacciono molti critici a grandis urca mazurca doppio blank quindi anche reccando lo scudo si porterebbe comunque a metanave blinded pilot meno male che mace ha le forze per sé quindi siamo 13 punti per grandis 55 per discordilli questo critico perdesco non non era il caso non doveva subirlo perché gli porta a far sì che anche spendendo la carica di r2 astromech per un turno lo porterebbe comunque sempre a metà dovrebbe usarlo due volte ma no ma tu puoi tu puoi arrivare a arreccare il il di scudi massimo si si però comunque in un turno non riesce ad essere a togliersi lo smezzato ci vogliono due turni in questo caso si 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 ce ne ho i due ma secondo me Francesco non cioè continuerà ad attaccare vabbè ovvio 10 minuti alla fine ci hanno messo 8 minuti a fare il turno precedente quindi è probabile che faranno ancora due turni se stanno in quel ritmo lì uno di di round normale l'altro andiamo in supplementare diciamo utilizzando termini calcistici che partita ragazzi che partita qui abbiamo una zocca che deve giocarsela un attimo un un mace che può sempre usare sense volendo perché ha tre forze quindi non ne fregherebbe nulla un vater stressato e un eco che non può decloccare perché non è cloccato e grandis comunque ogni scelta che ha fatto misurata perché io avrei fatto scelte diverse e non avrebbero pagato ma pagato per lui ad esempio questa scelta del precedentemente spendere le vede non cloccarsi quindi di conseguenza puoi fare la 1 secca adesso che l'ha pagato l'ha pagato molto e anche la posizione che ha ora comunque non è una brutta posizione oggettivamente ha fatto tutte scelte che si sono rivelate corrette alla fine per questo che lui gioca e noi siamo qui a parlarne Brunero dice che l'ossa ha avuto la meglio andiamo a vedere un attimo se hanno dichiarato i punteggi i giocatori l'ossa era a tavolo 5 giusto si era 5 Fortunati 40 Lossi 96 Lossi porta partita a casa contro Fortunati tra l'altro sta sta giocando anche il mio compagno di squadra Andrea Bacchetta contro Emanuele Pesce che penso sia un di Genova un mio giocatore sì Valenza non ha ancora finito ma come dice come dice Chiara Federico è lento è lento sì sta settando ancora i dial per il secondo turno sta vedendo i sassi lui setta il dial anche per i sassi perché è uno preciso attenzione una 4 di violenza grazie a Sans quindi Mace spende forza per guardare il dial di dieco il quale cerca di portarsi il più lontano possibile portare i punti a casa fa il pelo al bordo in poche parole infatti infatti Ahsoka spende forza per poter fare il boost post koio o il boost post koito dipende spende energia dell'R2 per reccare lo scudo su Mace e mette ovviamente no fire su di sé però però così facendo eco riesce comunque a staccarsi da Mace e da Ahsoka eco potrebbe dire io disingaggiare esatto e saluta tutti vediamo Veders ha fatto una 1 morbida sulla sua destra se ha fatto una 1 morbida ma anche se ha fatto una 1 dritta attenzione attenzione perché ma si ma no sai quindi spende forza fa barrel e come azione risolve il critico ecco non è contento c'è un bump quindi eco può subire fuoco da Ahsoka però vediamo che cosa ha fatto il buon Vader perché a questo punto Vader potrebbe scegliere di andare a sparare su Ahsoka può fare un barrel sì però ha una sola forza no ha due forze attive perdono l'ho caricata l'altra quindi può fare barrel forza target per cercare di romperla prima che lei possa sparare quante quante quanti al c'ha ancora tre vite Ahsoka ha tre vite secondo me non ce la fa ci credi sempre fa sempre bene nella vita target barrel si si toglierebbe anche dal bullseye in teoria se non sbaglio così a occhio probabilmente sì anche se comunque Ahsoka non avrebbe modifiche per l'occhio aggiunto quindi vedra spara sua zocca a distanza 2 quindi nessun bonus di gittata per nessuno di due vedra tira tre dadi perché al target lock rolla con un colpito che diventa critico grazie all'abilità della nave avendo il target lock spende il target lock ovviamente rirollando sia l'occhio che il bianco e gli piazza un hit e un crit con un blank hit crit ahsoka è forte fa due raid ahsoka sta parando qualsiasi colpo c'è ecco distanza tre per ahsoka ecco senza modificatori ahsoka senza modificatori quindi giocano a chi tira più forte due doppio occhio quindi nulla perché non ha modifiche ha speso la sua forza per fare il boost quindi nulla di fatto nessun fuoco questi tiri dovuto da non capisco ah ha il target lock precedentemente preso quindi fa un colpito ok evade di mano quindi a posto tre minuti alla fine ultimo turno per i nostri giocatori mace window non può sparare ricordiamo che mace può scegliere di non sparare un altro turno per riportarsi con gli scudi un altro scudo on quindi toglierebbe i 38 punti di vantaggio da grandis ma comunque descordilli sarebbe comunque sotto di 20 punti l'unico modo più fruibile per descordilli di portarsi avanti è smizzare eco quindi togliere lo scudo e lo scafo a eco rimastigli portandosi 27 punti a casa non è facile no direi di no può fare tre danni su vedder per portarsi a casa 43 punti ma in tutti i casi dovrebbe comunque reccarlo scudo a Mace quindi di conseguenza fare no fire e fare i danni con Ahsoka sti cazzi non vorrei essere descordilli in questo momento momento verità sì quella carta su 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 Mace quel critico è stato veramente fastidioso sì ha cambiato ha cambiato la logica la strategia degli ultimi due turni perché ha dovuto scegliere di non di non ingaggiare di non sparare e tra l'altro adesso se sceglie di disingaggiare vader secondo me se ne va se ne va tranquillamente è più eco che dovrebbe riuscire a tenere a distanza Ahsoka perché secondo me Ahsoka adesso l'unica cosa che deve fare è andare a sparare su eco sì tra l'altro ringraziamo Marco Arbau per essere iscritto al canale ok tanto sono tranquilli perché comunque il time c'è andranno a fine time quindi sono rilassati un eco sa cosa fare ha messo il deal desco sa anche con tre due le sue navi cosa fare sia con Ahsoka che con Mace manca a vader la domanda sta quanto riesce a scappare Grandis per portarsi punti a casa o quanto è folle per cercare di portare altri punti a casa allora c'è 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 un c'è un rischio calcolato nel senso che potrebbe cercare di scappare con eco e rimanere lì con vader per per sparare su sua zoca cioè se vader fa una fa una una larga si mette secondo me in in coda in coda ad Ahsoka perché secondo me Ahsoka adesso ha una ha una sola scelta andare andare verso andare verso eco lo siamo al deal di vader momento verità anche perché vader ha una quattro coio una tre e dall'altra parte mace può portarsi a mace deve decidere alla fin dei conti deve fare se con mace recca gli scudi gli ci vogliono 21 punti per portarsi in vantaggio quindi vuol dire mezzo eco ci sta quindi vuol dire che mace può reccare lo scudo e con Ahsoka puntare a eco il quale può fare una tre morbida in basso e dire mi clocco difendo quattro è sto bello conoscerti Ahsoka per destressarsi si deve comunque fare una 1 o 2 morbida o una 2 e 3 dritta quindi è probabile che faccia una 2 morbida per cercare eco la quale dovrebbe poi fare un boost tosta e se facessero due morbida una quattro coia dovrebbe starci per vedere e guardarla in faccia con un advanced sensor per prendere target lock mamma mia ragazzi sì è una situazione abbastanza complessa trovo tante scelte e non sappiamo che cosa più che più che cosa sceglierà che cosa sceglierà Francesco cioè se tenterà di disingaggiare e evitare il fuoco o se decide di provarci intanto vi segnalo che Aurelian vince 169 e Valenza perde 155 per solo 14 punti Valenza perde quindi anche lì una partita tirata vedi Ahsoka fa una 2 morbida come avevo predetto ok vediamo spendere la forza per fare il boost e poi fare l'azione di target lo prende occhio perché dice se minor bullseye posso sfruttarlo come ben detto Mace recca lo scudo si porta 65 punti Grandis e 55 desco se no Grandis se l'ha letta bene può aver potuto fare una 1 secca e poi fare bar roll con neco sì però sai invece no te ne è morbida perché Mace gli ha letto il deal può fare il bar il fucklock ovviamente come avevo detto Vader può fare una 1 morbida volendo io 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 con Vader avrei scelto in ogni caso di fare una 1 morbida perché l'unico posto in cui poteva andare a zocca per cercare di smezzare Echo era esattamente lì forse poteva poteva anche poteva anche fare una una manovra più a no se lo porta a casa se lo porta a casa non ha voluto rischiare quindi è un è un disingaggio invece con Echo ha fatto evade con Echo ha fatto evade quindi un colpito per Ahsoka abbiamo l'evade quindi partita finisce con Grandis a 65 punti 55 per Discordilli gran partita ragazzi gran partita molto molto tirata molto tirata e l'amico fino all'ultimo bella 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 complimenti ai giocatori Grandis è riuscito a fare delle manovre veramente misurate bene dadi uguali per ambe due nessuno ha avuto vantaggi effettivi dal dado sta una partita veramente giocata fino all'ultimo istante complimenti ragazzi bella bella partita posso dire che la segno anch'io la partita Grandis dove sono 75 punti Grandis e 55 Discordilli controlliamo bene 65 grandis 25 Discordilli bella partita la stai inserendo tu su TTT si visto che ci sono gliela faccio io signori bella bella situazione vi ricordo che torneremo live sabato mattina alle 10 con la partita di ora un vuoto De Bono contro Nicholas Friedl e per questa settimana qua direi che ci siamo poi la prossima vi faremo sapere in corso d'opera come facciamo sempre sia su Xwing Italia sia sul Discord per chi è all'interno del nostro Discord ce la posso fare ok sto zoomando a caso direi che vi saluto ringrazio il buon Vito per avermi fatto compagnia sempre sul pezzo e vorrei aggiungere Vito sta migliorando di continuo lo troveremo tra uno dei migliori giocatori della 2.0 peccato che è quasi finita la 2.0 purtroppo il tempo è sto tirando nei tuoi confronti si si ti ringrazio ancora Vito grazie mille presto grazie a te grazie a tutti e ci risentiamo presto alla prossima sabato mattina 10 ragazzi con Alessandro De Bono contro Nicholas Friedl scusami Nicholas ma non so le lingue buon prossimamente a tutti buon riposo ciao ciao ma sti cazzo di bot porca puttana